Padre, lei ci ha detto che la preghiera del cuore è fatta di silenzio, di concentrazione, su alcune parole Gesù, che poi diventa amare Dio, lasciarsi amare, comunicare amore. Ora, come entra la parola di Dio nella preghiera del cuore? Entra come elemento portante la parola di Dio. Adesso non ho potuto, in poco tempo, dovete rendervi conto che noi per far entrare nella preghiera del cuore i giovani impieghiamo un anno e voi in quattro giorni vi ho malmenato la preghiera del cuore, non ve l'ho spiegata. Comunque, il sottofondo della preghiera del cuore per noi è sempre la parola di Dio. Noi cominciamo sempre con la parola di Dio. Noi dedichiamo ampi spazi alla parola di Dio per preparare il clima alla preghiera del cuore. Noi diciamo così, la parola di Dio è la legna che accende il fuoco e poi c'è il fuoco che sarà la tua preghiera del cuore. E allora suggeriamo, per esempio, prendi dalla parola di Dio le parole che usi nella preghiera del cuore. Adesso vi ho detto Gesù, Padre, Spirito Santo, ma molto sovente noi invece ricorriamo alla parola del giorno a fare il sottofondo della preghiera del cuore. In questo senso la preghiera del cuore è parte della parola di Dio, possiamo dire. Poi uno scoraggiato che mi dice, qui è tutto bello e poi dopo, poi dopo a casa mia, ma a casa tua c'è il Signore. A casa tua tu devi trovare qualcuno con cui fare comunità. I preti senza comunità vanno a fondo e tu devi trovarla la comunità. Sarà qualche giovane, sarà qualche altro sacerdote, ma tu devi trovare chi ti sostiene. Se tu insegni a qualche piccolo gruppo la preghiera del cuore, poi la preghiera del cuore li incementerà tra di loro e il tuo gruppo ti sosterrà. Ma devi cercare la vita comunitaria. A me sembra che la grande piaga del prete secolare è che è solo. È solo come un cane. È guai al prete secolare che non ha il problema della vita comunitaria. Io dico ai preti quando vengono a fare il deserto, se non hai la comunità, inventala, creala. Ma non star solo. E per fare una comunità basta solo un po' di umiltà e un po' di buona volontà. E poi la comunità nasce, perché il Signore deve darti il sostegno. Non so se ho capito bene la preghiera del cuore, essere presente all'eterno presente. Sono d'accordo col pensiero sul chiedere ed esercitare l'amore davanti all'eucaristia. Tuttavia la mia verità di fronte a Dio è che sono ancora molto egoista e non posso fare a meno della preghiera di intercessione di domanda. Ma la preghiera di intercessione di domanda non è una cosa egoistica. Quando voi chiedete l'amore siete egoisti? Siete egoisti? E vi abbiamo insegnato a chiedere l'amore. Quando io dico che la preghiera che completa tutte le preghiere è chiedere il cuore di Cristo è una preghiera di domanda, la più preziosa, ed è amore. Mi viene spontaneo il problema del mondo intero, la salvezza dei peccatori, il Dio della Bibbia e della fede, il Dio della mia salvezza, il Dio dell'Alleanza. Quando sono davanti al Santissimo gli parlo di tutto, specialmente di ciò che più mi urge dentro. È preghiera del cuore questo? Sì, è preghiera del cuore. Tutte le volte che sei sincero davanti a Dio, entri nella preghiera del cuore. E tutte le volte che la tua preghiera si cambia in amore, è preghiera del cuore. Di qualunque tipo sia la preghiera. E il problema su cui devi battere le tue battaglie è che la tua preghiera diventi amore. E fa ben attenzione a pensare ai fatti tuoi anche. Per questo dico, chiedere il cuore di Cristo è proprio a chiedere tutto, chiedere il cuore misericordioso di Cristo e chiedere tutto. Non potete chiedere di più. E venga il tuo regno, che Gesù ci ha insegnato a chiedere. Ma pensa ai fatti tuoi. Quindi quando intercedi per questo, per quello, per quello, per favore, metti i puntini sugli... Signore, prima, per favore, converti me. Perché io ne ho estremo bisogno. Poi io ti aiuterò a convertire lui. Ma prima, per favore, converti anche me. Ecco, mi sembra che bisogna che sovente nella preghiera di intercessione ci sia uno stop e uno abbia tempo a guardarsi dentro, a mettersi a nudo la coscienza, a calarsi nel profondo. Perché se voi non entrate nella profondità dei vostri bisogni, voi potete evadere dal problema più importante che è la vostra... Lasci, va. Per favore. Grazie. Un altro. All'interno della mia giornata di paroco... Ecco, questo foglio verde me lo porto sul cuore. All'interno della mia... È un paroco, tribolato. All'interno della mia giornata di paroco c'è la preghiera pubblica, messa, liturgia delle ore, rosario. Non mi riesce di trovare il tempo per l'ora di contemplazione. È brutto segno. Tremendo segno. Tremendo segno. Tremendo segno. Tremendo segno. Tremendo segno. Tremendo segno. È forse il segno che dovrei fare due ore al giorno. Sì, anzi tre. Prova tre. Prova tre, poi una esce di sicuro fuori. Prova tre ore e una esce di sicuro fuori. È proprio necessaria la preghiera personale, individuale. Non è necessaria. È insostituibile. Non è necessaria. È più che necessaria. Senza preghiera individuale, tu, parroco, non fai il parroco. Togliti le illusioni. Perché se manca la preghiera personale, la liturgia rischia di diventare guscio vuoto. Quello che fai col popolo rischia di insabbiarsi nel nulla. È la tua preghiera personale che dà vitalità alla tua liturgia. È la tua preghiera personale che dà vitalità alla tua messa. E quando passi dalla camicia da notte, dal pigiama all'altare, sei un incosciente. E tu devi pregare sovente che il Signore ti guarisca da questo cancro. Il cancro dell'incoscienza eucaristica. E vieni con le valenze a guarire. E bevi l'acqua di Madre Speranza. E guarisci da questo cancro. È il più grande cancro del prete, del parroco. L'incoscienza eucaristica. No, abbiamo potuto parlare della messa. Mi rincresce proprio, ma... La messa è proprio tutto, 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 tutto. Ma la messa finisce per essere anche niente. Se tu non hai interiorità, se tu non sei abituato alla preghiera individuale, alla preghiera personale, Tu svuoti la liturgia. Tu svuoti la liturgia se manca la tua preghiera personale. Un altro chiede Padre, è possibile fare da voi una esperienza di eserco? Sì, altro che possibile. Noi siamo quasi i cugini primi di Colevalenza. Perché vedo che tutte le cose di Colevalenza la Madre Speranza se l'ha ispirata anche a noi. E allora godiamo proprio insieme. Dunque anche da noi potete fare un'esperienza di deserto. Quando volete e come volete. Soltanto noi chiediamo che rispettiate le nostre norme. Cioè silenzio rigoroso, preghiera continua, preghiera seria, e poi che accettiate la nostra povertà. Perché la regola di Padre de Foucault sulla povertà non scherza. E allora chiediamo che si accetti la povertà. Anzi, noi abbiamo continuamente gente che fa esperienza di deserto. E abbiamo avuto i primi sacerdoti che hanno fatto l'anno sabbatico. Un paroco della Svizzera che ha cominciato, che aveva fatto cinque volte il deserto, a un certo momento la sua vita spirituale non era ancora a posto. Allora chiede al suo vescovo un anno di stop per fare un anno sabbatico. L'abbiamo accolto e adesso quattro altri sacerdoti hanno chiesto e chiediamo nell'anno sabbatico che metà giornata sia preghiera, contemplazione, metà giornata lavoro manuale e servizio dei poveri. E ho visto partire quel paroco così rifatto, così rinnovato, piangevo come un bambino dalla riconoscenza. Ecco, certe volte nella vita del sacerdote c'è proprio bisogno di uno stop prolungato. Un deserto è solo un cerotto. Un'esperienza prolungata è indispensabile per togliere certe storture. E ho anche capito che bisogna essere graduali. Allora, per esempio, chi chiede di fare l'anno sabbatico noi diciamo prima fai una settimana, poi se ti senti, se sei capace, fai un mese e poi se ti senti attratto allora fai l'anno in modo da provare se le cose sono proporzionate al tuo bisogno e se rispondono al tuo bisogno. Ecco, allora adesso cominciamo il nostro tema sul sacramento del perdono. è come dopo il vino verrà l'acqua ma abbiate pazienza. Abbiate pazienza. Madre Speranza mi aiuterà a dirvi le cose più importanti per preparare bene il sacramento. Voglio fare con voi un piccolo studio di un documento importantissimo della Chiesa sul sacramento. Oggi faccio la presentazione un po' sommaria del documento sul sacramento il più antico che esiste e poi domani facciamo il documento della Chiesa più moderno sopra il sacramento che tutti conoscete la Riconciliazia e Penitenzia. Il documento che voglio presentarvi non è tanto conosciuto e meriterebbe invece proprio un approfondimento e il la Didascalia degli Apostoli un documento antichissimo sul sacramento del perdono è stato scritto è nato verso il 220-230 forse il primo documento che compare nella Chiesa dopo i libri santi è proprio sul sacramento del perdono non è la Didache la Didascalia degli Apostoli Raner dice la storia del sacramento non può trascurare la Didascalia degli Apostoli seguo come guida nel presentarvi questo documento della Chiesa il più antico documento sul sacramento del perdono seguo Raner la penitenza nella Chiesa edizione Paoline poi Alzeghi e Flick il sacramento della riconciliazione mi pare anche le Paoline che cos'è dunque questo documento? è un documento pastorale sul sacramento del perdono importantissimo un vescovo della Siria non si sa l'autore di questo documento un vescovo della Siria che scrive un'opera a istruzione di altri vescovi siamo nel 220-230 con l'intento di istruire sulla prassi della tradizione da adottare universalmente quindi un documento nato nell'alveo culturale dei Vangeli nato in Oriente in Medio Oriente poi vicinissimo ai Vangeli 220-230 poco distante quindi dal quarto Vangelo nasce in Oriente e si appella a una tradizione da adottare universalmente già assodata e che deve espandersi Rahner appunto dice non si può parlare della storia del sacramento del perdono senza partire da questo documento e purtroppo è pochissimo conosciuto questo documento importantissimo ed è di una ricchezza straordinaria per la comprensione del sacramento comincia con questo ammonimento o Vescovo conserva in quanto puoi quelli che non peccarono perché rimangano senza peccato e ricevi sanandoli quelli che si convertono dai peccati quindi accogli cura quelli che sono a posto ma non disprezzare quelli che devono essere salvati dal peccato il padre Alzeghi studia in cinque tappe il cammino che il cristiano penitente dovrebbe fare la prima tappa il Vescovo constata che un cristiano vive in peccato allora lo ammonisce e se non si corregge deve essere escluso dalla comunità però è una scomunica correttiva è una scomunica di bontà una scomunica che va verso il penitente una specie di scomunica pronunciata però in modo drammatico da tutta la comunità non ti comporti bene la comunità ti allontana proprio come fanno oggi i testimoni di Geova che quando uno non non fila diritto gli fanno la scomunica via non devi più far parte con noi una cosa un po' un po' drammatica così e la ragione la ragione nel documento è precisato così il peccato è la distruzione del corpo di Cristo e quali peccati meritano la scomunica prima di tutto i tre più gravi che in occidente si perdonano una volta sola o poche volte secondo le chiese omicidio adulterio idolatria questi tre peccati che in occidente sono il grande la grande minaccia dei cristiani chi cade in questi tre peccati deve deve essere segnato a dito in occidente ma in occidente la severità è molto più grande ma lui aggiunge in questo documento aggiunge altri peccati sentite la maldicenza quando nella comunità cristiana c'è un maldicente che non si corregge scomunicato le liti i maltrattamenti degli schiavi e dei poveri il disprezzo di uno scomunicato interessante questo disprezzo di uno scomunicato sei anche tu scomunicato le prepotenze i costruttori di idoli l'abuso del corpo nelle cose sessuali le truffe commerciali se oggi si dicesse ai commercianti sei un truffatore via dalla chiesa pensate come era seria la chiesa nel 230 nel Medio Oriente l'usura il furto seconda fase tutta la comunità si mette in preghiera per lo scomunicato il vescovo deve darsi da fare per seguire lo scomunicato notate bene queste parole se il vescovo si mostra duro e non accoglie i peccatori pecca contro Dio perché non imita la bontà di Cristo parole stupende la chiesa ufficiale deve essere piena di bontà anche con chi è messo da parte e sono parole stupende che valgono per noi oggi terza fase quando il peccatore ritorna e chiede perdono allora il vescovo lo ascolta e cosa fa? lo perdona? no ancora stabilisce la riparazione e la riparazione è molto dura fallo rientrare dice il documento e imponegli tanti giorni di digiuno quanto è proporzionato la sua colpa due settimane tre settimane cinque settimane sette settimane di digiuno pane e acqua per certe colpe quarta fase vedete come marciavano sul serio col sacramento e noi oggi come siamo calati sotto certi aspetti quarta fase riparazione per rientrare lui deve riparare riparazione ed esclusione dalla comunità finché non ha riparato e questo il documento spiega è un'esplorio che 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 è un'esplorio